Buongiorno, buongiorno ai cari amici del premio Basilicata, che ricordo con affetto, soprattutto il professor Bonsera, che mi ha invitato a questo piccolo omaggio per la giornata mondiale del libro, che in Spagna si festeggia con una rosa, con la festa di San Giordi. Il libro, il libro cartaceo nasce dalla natura, nasce dagli alberi ed è bello questa comunione di natura e libri, di natura e lettura. Io in questi giorni di forzata isolamento cosa faccio? Guardo la natura dalla mia finestra e leggo, leggo tantissimo. Il libro può salvarci la vita. Mi auguro che le librerie possano riaprire, naturalmente fatte salve le condizioni di sicurezza, di prudenza, di distanziamento e mi auguro che la gente torni a leggere con gioia, con piacere, perché la lettura è un piacere. Ho dei ricordi bellissimi delle giornate passate in Basilicata per il premio Basilicata, che fu assegnato alla mia storia di Colette, lezione di nuoto pubblicato da Guanda. E allora con questo, con questo ricordo, io vi mando un grande abbraccio, vi saluto tutti quanti, spero di rivedervi presto e soprattutto festeggio con voi i libri, i libri che ci rendono felici. Evviva! Grazie! A presto!